Buonasera salvo a tutti oggi impareremo a fare le famose porpettine dell'impruneta solamente all'impruneta si sanno fare così allora vupigliare 500 grammi di macinato di kelio buono mi raccomando che sia fatto frullare bene io ce l'ho in un frigorifero dall'81 gli è frullato bene un barattolino di spezie e un barattolino diciamo con l'acqua dell'arno perchè bisogna rimpastagnare con l'acqua d'arno gli da qui il saporino diciamo più spezziano allora vupigliare la sciocola di cane anche la di gatto va bene l'elastesima allora quel disognoso con l'unghia vc infiare l'unghia dentro la carne dentro il macinato per vedere se gli è diciamo a temperatura ambiente delle altre spezie queste mi hanno spezie proprio diciamo originali dell'impruneta mi raccomando abbondare con le spezie perchè gli hanno quelle che ti danno dopo i bruciorini ai bolli di culo quando tu vai a ricacarla vedete io ho la mano con il guanto oggi sono molto professionale mi sono messo questo guanto in modo che io sono una persona molto igienica una volta fu anche il bidet e quindi vedete e questa è la famosa acqua nell'arno l'acqua d'arno gli è il segreto della famosa forpettina di carnevale delle famose forpettine che si fanno a carnevale avete capito? se c'è qualche duro non ha capito mi chiami e vedete la mia cucina gli è sempre molto diciamo vedete un barattolo di maionese essenziale pan grattato vedete quelle forpettine ma che spettacolarità poi sempre con le mani unte e bisunte gli si adda alla forma della forpetta fonda vedete io le so fare le fo perfette con la mano su immacinato mi raccomando appoggiarla sopra e poi dopo andare a toccare tutto in casa mobili, vestiti dovete diciamo le maniglie gli rimanano l'unto le durano di più e fa bene anche per i mobili io per dire la carne le gli do una passata di salciccia anche sui mobili gli dai lucido diciamo vedete certamente come le fo io a voi non vi riuscirà di rifarle non è per vantazione ma diciamo le fo perfette le famose forpettine dell'impruneta solo no dell'impruneta si sanno fare per dire tu vai per dire a tavernelle va a difesa sanno una sega come si fa fare le forpettine di carnevale ma guardate la cottura con il dito vedete appoggiare sopra il dito suddice vedete a me solamente a questo piatto mi viene a fare mi viene a fare perché ragazzi io le so fare voi mi raccomando provateci a casa anche se non vi verranno belle come le mie voi provateci e non va a battere perché io uso solamente carne abbattuta carne diciamo da animali morti ma andiamo adesso all'assaggio di boccone boccone numero uno mmm che spettacolo se c'è qualcuno gli ha dato di qualche cosa a me venghi me lo dì in il viso gli tiro una testata gli sfondo il capo buone 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 adesso è il classico classico non va a fare